Benvenuti sul nuovo sito inquinomenovivomeglio.it, il nuovo sito della provincia di Milano che presenta la nuova campagna di comunicazione per promuovere piccole ma importanti azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per migliorare la qualità della vita. Questa campagna la proponiamo a tutti i comuni della provincia che invitiamo a collegarsi al nostro sito e a divulgarla affinché queste semplici azioni diventino delle azioni che entrano a far parte della quotidianità della vita di tutti i cittadini.